Ci troviamo a Calcaferro di Stazzema per i sopralluoghi del film L'amore non crolla mai. Questo è un progetto che nasce per dedicare una storia al popolo aquilano di Onna in particolare. Infatti stiamo cercando di identificare dei posti su cui possiamo ricostruire il tragico evento del rastrellamento e dell'eccidio di 17 civili a Onna. Grazie all'amico Marco Caluggi e al sindaco Silicani ci hanno portato all'attenzione questo posto che sembra essere molto interessante e giusto per le scene che intendiamo svolgere qui in Toscana. Chiaramente questo è il primo approccio per me che sono il regista con le terre della Versilia e della Toscana in generale perché comunque la rebuto molto interessante dal punto di vista cinematografico. L'amore non crolla mai è un film come avevo detto prima dedicato al popolo aquilano e onnese che ha vissuto come pernemesi della storia due tragici eventi. Quello del 44 con la strage e dopo a distanza di tanti anni il terremoto. Onna è stato il paese più colpito dell'aquilano dove ci sono stati più di 40 morti. Insomma è una vera devastazione. Però non racconto io la devastazione in quanto tale ma il film comunque è dedicato, è rivolto a una speranza, all'amore. Infatti il film si chiama L'amore non crolla mai per questo perché un popolo si racconta, il popolo aquilano comunque è sempre il popolo italiano perché ora è successo lì ma se fosse successa questa tragedia in un'altra città della nostra penisola sarebbe stata la stessa cosa. La tragedia spinge noi a dare il meglio, il massimo che abbiamo dentro e l'unica energia, l'unica forza che ci permette di fare questo è l'amore. Sotto tutte le sue scettature chiaramente, perché l'amore è molto variegato insomma. Questo diciamo è lo spirito del progetto che intendiamo produrre, fare, far vedere a tutti gli italiani a memoria diciamo di un popolo sicuramente.